Signor generale, come si sente? Vuole che l'aiuti a spogliarsi. Eh? Che ore sono? Le dieci. Le dieci? Buttami un po' d'acqua sulla testa, ho l'impressione che mi scoppi. Le hanno portato un pacco e una lettera, signor generale. Chi li ha portati? Non so, vuole vederli? Sì, no, 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 non posso voltarmi e mi fa fatica tenere gli occhi aperti. Guarda tu, cosa c'è? Ci sono tre camicie, un vestito, sei fazzoletti, una veste da camera, due paia di mutante, due magliette e la fotografia di sua moglie e dei suoi figli. Che bei ragazzi.